Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Siamo arrivati finalmente a 3000 iscritti e vi vorrei ringraziare per questo traguardo che abbiamo raggiunto insieme E giustamente vorrei unire a questo speciale evento anche una cosa abbastanza importante e significativa che si sta diffondendo sul web Come sapete molte persone importanti come VIP, YouTubers, principalmente americani ma sicuramente questa cosa arriverà anche in Italia Fanno una sfida di un secchio d'acqua ghiacciata per la malattia che è l'ALS che sarebbe la sclerosi laterale amiotrofica Che è una malattia diciamo del cervello se non ricordo mai da quello che ho avuto, su quello che mi sono potuto informare Questa sfida ovviamente mi è stata anche diciamo proposta da un mio amico che anche lui fa video su YouTube Ovviamente vi metto il suo link e ovviamente vi metto anche un pezzettino del video qui davanti Quindi ragazzi volevo fare anch'io questa sfida per essere partecipo e comunque sia anche con una donazione E se vi fa piacere fatelo anche voi giustamente E ovviamente ragazzi vorrei fare un'altra cosa molto importante oltre a quella del mio gesto che mi farò una secchiata d'acqua ghiacciata Che non sto neanche tantissimo, non sto tanto bene ragazzi Farò in modo che voi, dei miei 3.000 iscritti, se farete la secchiata d'acqua giustamente riprendendola Ve la caricherò nel mio canale, farò un montaggio ragazzi dove tutti voi vi farete la secchiata di acqua ghiacciata E ovviamente la caricherò come un video a parte per i miei iscritti Quindi ragazzi se avete voglia, se avete un bel secchio d'acqua e volete aggiungerci del ghiaccio E congelarvi per bene magari vi conviene adesso che c'è il sole che è da noi estate Piuttosto che farlo in inverno Quindi ricapitolando, se fate un video dove siete voi come protagonisti Che vi gettate una secchiata d'acqua ghiacciata in testa Mandatemela sul mio profilo, sulla mia email Anzi neanche sulla mia email ragazzi Caricatela su Youtube Mandatemi ovviamente il link sulla mia pagina Facebook che trovate giù in descrizione E io ovviamente l'andrò a vedere, la catturerò col mio hdpvr E magari la metterò, anzi la unirò a tutti gli altri che mi arriveranno Cioè tutte le altre secchiate d'acqua ghiacciata che mi arriveranno Quindi ragazzi partiamo con gli ingredienti che sono una cazzatina Sono molto semplici e ve li faccio vedere giustamente Quindi ricapitolando avremo bisogno di un po' di ghiaccio Un bel secchio pieno d'acqua Gettiamo il ghiaccio dentro ragazzi Così E niente andiamo in terrazzo ragazzi per farci un bagnetto ghiacciato Allora ragazzi vi dico già da subito che il ghiaccio si è sciolto Però purtroppo ragazzi non ci posso far nulla Qui le temperature in Sardegna sono veramente alte E ci saranno più di 35 gradi e passa Ragazzi ci manca solo farci un bel bagnetto Quindi diciamo anzi partiamo subito Come potete vedere il secchio bello chiaricchio Io giustamente lo prenderò qui davanti così Potrete vedere mi sono già fatto bagnare i piedi ragazzi 4, 3, 2, 1 Ok ragazzi quindi la sfida l'ho fatta Mi sono un pochettino infradiciato giusto per rendere bella questa sfida Guardate la mia maglietta che è uno schifo La mia canottiera di merda E niente ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Lo facciamo per una giusta causa Quindi non nomino nessuno degli altri youtubers in questo video Ma nomino voi 3.000 iscritti E passa In questa sfida fatevelo anche voi Questo bagnetto con l'acqua gelata Che adesso mi ammalo ragazzi E niente Ve lo caricherò sul mio canale Se ne faremo abbastanza E noi ci vediamo alla prossima Quindi Bella raga Ah e questo messaggio è per Deathscri Per dirgli che io accetto sempre le sfide Bruto stronzone Grazie a tutti Grazie.